Al via la sesta edizione di Bambin Festival, siamo in compagnia dell'assessore Alice Moggi, un calendario davvero fitto di appuntamenti per i bambini e per le loro famiglie, fino al 30 maggio. Sì, il Bambin Festival è partito ufficialmente con l'inaugurazione sabato 16 maggio, un calendario di iniziative veramente molto intenso, come tutti gli anni, coordinato dal centro servizi volontariato e da oltre 100 associazioni, che ha visto anche in questo sabato di apertura l'unione di due iniziative, l'unice, Feleggere Punto Pavia, che ha riempito il cielo di Pavia di palloncini colorati. Abbiamo poi contribuito all'inaugurazione del Bambin Festival con la partecipazione del sindaco. Anche le scuole hanno partecipato in modo attivo all'iniziativa, come è stata appunto la giornata? Allora, la giornata si è aperta alle 14.30 con l'inaugurazione della mostra dei lavori dei bambini, tra l'altro, devo dire, molto belli, molto divertenti e molto fantasiosi, con Daniela Bonanni, che rappresentava, diciamo, Leggere Punto Pavia, Memo Damiani di Unicef, l'assessore cristiani per il comune di Pavia, e Isa Cimolini, che era presidente del CSV. Quindi il primo taglio del nastro è stato proprio quello della mostra, a cui poi è seguito il lancio dei palloncini, e un secondo taglio del nastro ha voluto proprio inaugurare, con uno spettacolo nella bellissima cornice del castello, uno spettacolo teatrale per bambini, per aprire a tutti gli effetti il Bambin Festival. Per chi volesse ulteriori informazioni? Allora, tutte le informazioni si possono trovare sia sul sito del comune che sul sito di Bambin Festival, che è www.bambinfestival.org. Tra l'altro, Bambin Festival sta anche cercando volontari per tutto il periodo del festival, quindi chi fosse interessato può scrivere, può contattare il CSV o scrivere una mail direttamente a promozione.